giorgia giorgia ci sei eccola bene e buongiorno perché in canaria ancora ancora giorno giusto giorgia buonasera comunque sono le otto e mezza qui siamo un'ora indietro ancora c'è luce una bellissima giornata senti una domanda che aria tira le canarie la gente come sta e tranquilla preoccupata sta bene diciamo non hanno paura del virus queste cose l'unica cosa che ci possiamo un pochino preoccupare il lato economico un pochino perché comunque un'isola vive di turismo però la gente sta bene sta tranquilla si esce si va al bar si siamo tornati a una vita più o meno normale bene allora perfetto perfettissimo allora giorgia tu insegni fai corsi di spagnolo agli italiani sì non solo italiani anche altre nazionalità però principalmente italiani e i corsi quanto durano quanto li fai normalmente dipende però diciamo quello che offro principalmente il pacchetto che offro è di quattro settimane i lezioni tutti i giorni vale perfetto perfetto io però ho sbiggiato nei tuo blog e ho trovato un bellissimo video che io adesso vorrei far vedere e lo ascoltiamo insieme a te vediamo un po se riusciamo a farlo partire eccolo qua ciao mi chiamo giorgia callori ho 29 anni e vivo da 9 anni a tenerife e l'audio come al solito ha sviluppato questo progetto riuscire a sentirlo voi non è solo un corso di spagnolo ce lo vuoi commentare è una guida per vivere al meglio tenerife si farà solo grammatica ma anche molto speriamo che si senta bene l'audio però io ritorno non non lo sento ecco giorgia spiega alle giovani che sei 80 anni il primo a lieve e iniziare a parlare anche se si sbaglia ci fa vedere anche qualche cosa non si deve cercare la perfezione ma che l'altra per tipo di insegnamento in quattro settimane con me riuscirai a fare questo salto si sente basso e aspetto per migliorare il tuo livello di spagnolo poi lo riposteremo intensivi a tenerife sud nel gruppo eccolo qua tenerife world s tenerife world gmail.com che i contatti di georgia che potrete contattare se andate in vacanza o se volete cambiare vita